Allora, per me non è uno, è una tappa a pari Senti un attimo, no? No, porca, non diria la tepa Senti un attimo, vuoi comprare, ma sono neanche 6 centi a me Va bene, sono neanche 6 centi a me Non so cosa fare, ci sono cresciuti io quando sei Sì domenica, spaccano la bottiglia di anzi e prangavo, come mi fa? E credo a me mora da tu che sei lasciato come una rocchina nel fiuto quando avrò un divoglio, come mi fa? Era perfetto E guarda, c'è lo Skywalker Comunque non si tirano sotto le persone Che? No, stavo parlando della scena prima Dai, video santo Amato Chiama al 100% Si è pronto, si è sentito male un cameriere E' geniale Mi prendo Sta bene E sta facendo un video Scusa 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 Ok, ancora un altro Voglio una vita Spericolata Y per me, va bene Guarda, io non ho già abbastanza di drogati, eh Basta Ma vai, vai, vai Va bene Va bene Osti Ma forse deve dire di sì Ma forse deve dire di sì Cazzo il mio Niente Ma non altro Non muoverti Non muoverti Che tappa Che tappa Che tappa Quando vuoi Buonasera a tutti In questa puntata di Mi tolgo i box Allora Sì, dopo Stasera Night Night L'ha proprio No, è tornato Dai, va bene Così E' inascoltabile Ma Ma subìa Ma è proprio Inascoltabile E' quella di chi? Non fallo No! 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 Non c'è Lo vedete Il tavolo che si muove Oh! No! No! A che tardi?